Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Guelta Leale Eccoci qui di nuovo con Life is Strange Eh si finalmente qualcuno l'ha pestato Non ci, non tu vuoi, non ci pensare Va bene così Ok, il pressing Eh si Toglierti dai goglioni, ecco No offense It's cool Whatever I can do to help What you can do is find out anything you can about Nathan's father I'm on it Between the snow and eclipse I'm assuming the apocalypse is around the corner And thank you Seriously I'll call you later You better I'm feeling pretty alpha now Yes You are Ok, dove si va ora? Yeah, that guy is so fucking in love with you I know He really did give a serious beatdown to Nathan It was a little scary to watch him do that Now let's make a date with Frank Will he even answer you? Frank always answers when he wants money Perfetto Andiamo a portare i dollaroni al tipo Ehm Spero non se ne sia presa per il cane Non siamo stati noi nel caso eh Perché in un luogo isolato Con un quantitativo di balenottere arenate Indifferente tra l'altro Probabilmente le famiglie sono tutte lì arenate An asshole is gonna help us find Rachel Or what? You'll actually shoot him? Chloe Do not count on my rewind Seriously Obviously I'm not counting on you That's why I have a gun And I might even save you someday About time I am so going to hit you There's no way we could have guessed This is what would happen to us when we grew up I'm looking forward to the day When we can just go on a road trip to Portland Fuck yeah You, me And Rachel Eh ma stai pescando cazzo sta sta Rachel So let's play this cool ok? Just pay Frank his money And then we can get that code for the book from him That's all Got it No dicking around Let's roll Ci proviamo Pronti? Mi raccomando con calma e circospezione Qua la gente armada è pericolosa la situazione Allora Faccia C'è un déplian L'industria locale ha reso le coste di Arcata Bay inospitali per i pesci, gli uccelli e perfino le balene È il momento di fermare lo sviluppo di Panestate che sta provocando la distruzione di posti di lavoro, vite e risorse Venite alla protesta pacifica alla sede di Panestate I media e le famiglie sono benvenuti, sabato 12 ottobre a mezzogiorno Va bene Vediamo cos'altro c'è Cartello Sì, l'esulfato Cartello che si può parcheggiare Allora C'è un'altra balena, non ci va Faccio realizzare nient'altro Allora, aspettate perché Diamo un'occhiata Come detto, il diario non lo sto più leggendo perché sostanzialmente è un zunto, diciamo, di quello che abbiamo già visto Quindi sarebbe magari un po' ripetitivo Allora Ci mancano un bel po' di roba in realtà Compreso da quella che potrebbe sembrare una coda di balena Quindi non so se Il fatto è che dobbiamo beccare anche l'angolazione giusta per poter sbloccare Ah, eccola qua E anche questo è fatto Se troviamo anche un mulino, una zampa di un qualcosa che è Un falco Un pallone da spiaggia Vabbè, non mi preoccuperei per il pallone Ora come ora, onestamente Vediamo da quest'altro lato, eh Vabbè, sì, già che ci siamo, ragazzi, io almeno le foto Quando riesco, magari Qualcuna la sparo Guardiamo dalla finestra Eh, vabbè, sì, già che ci siamo Eh, vabbè, allora Che fa? Si bussa? Prima scipoliamo tra Allora, ecco l'ho You should have come alone She's my partner Yeah, we're bodyguard So let's get to business Where's my fucking money? Vabbè, diamoglielo a sti cazzi Meno Forse ce lo riusciamo a togliere dai coglioni Almeno questo Meglio così, meglio così Oh, ti abbiamo dato un bel po' di soldoni, eh Non faccia troppo Eh Vabbè No, l'hai già fatto Mi sembra un po' troppo Audace Aiutaci altrimenti Qualcosa Vabbè, tanto possiamo tornare indietro Oppure non capisci Non capisci, non lo so Vabbè, dai Pochino Eh, se poi Andiamo così Allora, non capisci As customers, you wouldn't have any work at all Dude, you're a drug dealer Yeah, right, okay Both of you are giving me a headache No deal Frank, we didn't come here to fight This is so much bigger than us Oh, yeah, you didn't come here to fight A day after, you pulled a fucking gun on me I I am so sorry about that It might be the dumbest thing I've ever done And I've done a lot of dumb things this week Finally, I believe you But don't ever aim a gun at anybody unless you intend to kill Although you don't look like you could kill a bug I, I try not to And I never would have pulled the trigger I was just Dude, she was scared, all right You pulled your blade on me We were all freaked out Now we're all cool Please Okay, we're cool for now But my dog isn't He got out of the RV and a motherfucking big rig hit him Ever I beat that fucker down Pura God, Frank That's awful How, how, how is he? Little bastard is lucky to be alive Again like you give a shit Sì, un pochino Ehm Non lo so, salvataggio di cani? Ma se chiediamo di questo, magari si ammorbidisce Of course I do I heard you even rescued a bunch of fight dogs That's amazing No, all right, it was just the right thing to do I couldn't stand to see those poor animals treated like, like slaves E ci sta, e ci sta So, che era un po' gattivo, non lo so But all Si, meno Che era un po' gattivo Menor Rachel Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank We need all the help we can get now Especially from you You and Chloe do not know Rachel like I did And I couldn't even help her You're in way over your heads Why don't you just go play in your clubhouse Ehm Chiedendo, allora Non lo so, possiamo chiedere un sacco di cose in realtà Dalla foto forse Che era lì insieme She gave you one of her favorite photos That proves how much she cares And you care That's why you have to help How the hell did you know about that photo? That's my favorite picture of her I can look at it anytime and she'll always be there for me I can't stand not knowing where she is Not hearing her voice Or her laugh Anymore We can change all that It's up to you Help us find her, Frank Please We really need your client list Well, if there's a chance in hell You two dorks can find Rachel I'll take it And let me know if you find out who hurt my dog Ehm Ok Ah, c'è proprio la lista La sicurezza prima di tutto Ottimo Ok, dai Andata meglio del previsto Alla fine Abbiamo recuperato anche la pistola Il cane Sappiamo che sta bene Non diciamo che siamo noi Perché se no Si ripete la pistola e ci ammazza Ehm, sì Ah, no Ma io in realtà volevo andarci Per vedere se c'era qualcosa da spippolare Ma evidentemente no Ehm Spazzatura Non lo so Ci mancano un sacco di foto Ma va bene Dai Eccoci Andiamo va Eh sì Io onestamente sono curioso di proseguire La storia A parte, vabbè, le foto Come detto che sono Tra virgolette Penso l'unico collezionabile Non ci ho spippolato tanto Però Presumibilmente sì Ma come detto Sono curioso di andare avanti con la storia Per capire un po' Questo filo conduttore Allora Sì, qui Eh, attenzione C'è un uccello morto Addirittura qui dentro Ciao Max Spero che la ricerca Stia procedendo bene Ciao Grazie Frank Ci siamo quasi Speriamo Tenetemi informato Passate di qua Se più tardi Volete sballarvi In bocca al lupo Addirittura È passato dall'incazzatura All' Dai e ve offro io A gratis Allora No, no Prima cosa Si era schiantato contro il vetro E l'ho salvato aprendo la finestra Poi non è uscito Cazzo Gli ho lasciato pure la finestra aperta Gli ho lasciato la finestra aperta Sì Eh, non è colpa nostra Avevamo aperto pure quella del corridoio Quando stava Dall'altro lato Che era Ah, la pistola No, con quello Spippolamento Non si capiva Eh, sì Io controllo sempre prima tutto E poi Ci andiamo a Allora Indizi di Frank Vediamo Raccogli informazioni su un personaggio Selezionando tutti gli indizi Corretti Ciascuna selezione Ha un numero di indizi Specifico da selezionare Ehm Aspetta Non Ma non posso Ah, così In questo modo Vediamo No, non ho sbagliato Seleziona Guarda prima Ok, questa è la lista Quindi Kate Miss Bella Bella Macchina Nigel Joseph Mick Stella Simon Logan Steve Nathan Steve Flare Justin Clau Bruce Johnny Nicholas Glenn Tong Ok Ok Tutti i nomi di Di cani Questo era Spero che questa sia la prima cosa Che leggere appena svegli Mi spiace per la scorsa notte Sono stata una stronza Una delle cose migliori La vedi qui per sempre Ok Ma non credo sia un indizio molto Il libro contabile Vediamo Eh ho capito Però noi ce l'abbiamo Il coso per decriptarlo Quindi Se selezioniamo questo Ne servono due E La lista Vabbè andiamo sul libro contabile In generale Allora vediamo Il primo foglio è quello Della lista Come è che l'aveva chiamato Simon Loganstein Nathan Eh Rottweiler Probabilmente Rott Quindi vediamo Se in questi fogli C'è qualcosa Frank sure is keeping his customer satisfied He could open a store Allora Boxer Rott Blackwell 3 Grammi GHB 65 Dollari Quindi Qui c'è Dobbiamo Beccare 3 Rott Non c'è E anche qui Quindi era il primo foglio Rott C'è Spiaggia 2 grammi di cocaina 150 dollari Rott Blackwell 2 fogli Acido Skidu 68 Dollari Rott Spiaggia 2 ex C'è I sordoni Si pasticava forte Quindi abbiamo Ce ne serve un altro In realtà non so Se dobbiamo Ribeccare Anche il primo foglio Root Non c'è Più Si è l'altro Ne ha fatto i tre Quindi Abbiamo Uno Due E tre Ok Ok quindi Siamo giunti A una conclusione Per questo Presumo che Dobbiamo fare La stessa cosa Con gli indizi Di David Ok quindi Dobbiamo capire Nathan cosa ha fatto Quanti ne dobbiamo Selezionare Tre Partiamo dalla Foto Un istante Non mi ricordo Ok Kate Non ci interessa Ho capito E qua Non lo sappiamo Se c'è Nathan Onestamente Questo è tutto Dedicato a Kate Sì perché Non c'è Nathan Nessun Contesto Vediamo Quest'altro Ok Rachel Sappiamo Qual è la macchina Di Nathan Potrebbe essere Questa Onestamente Non Vabbè Questo non credo Ci possa Interessare I'm a suspect Proving David Sucks As a detective David Really Has been On Rachel's Ass For a while She Should've Been Stato Sospeso Non si Non aspettare Rachel Sembra Piuttosto Sconvolta E ha dichiarato Che Se non sta Seguendo Fotografata E non Ok Più che altro Abbiamo Tutto Riguardante A parte Questa E ne abbiamo Quindi Questa foto Abbiamo Le targhe E ce ne manca Una E le coordinate Non lo so Fino a che punto Possano Proviamo Magari C'è Il numero Di targa Di Ok Allora Rivediamo Qui Quale macchina È legata Alle coordinate E Vabbè Dovrei Leggere Le targhe Scusate Coordinate Un'altra Car David Tracking Allora Questa è Quella Di Chloe Se non Sbaglio La targa Era Quella Quindi Non ci Interessa Forse È quella Quindi Forse Anche questa Potrebbe essere Non lo so Però Tutti Dicono Quella Di Nathan Quindi Linea teorica Dovrebbe essere Questa Qui Quella Di Nathan T W L GH T W No No E Vabbè Questa E Presumo Questa Sia Ah Non è l'altra Quella di Nathan Perché Guardate Dietro La Luce Posteriore È quella Rotta Quindi Non è Quella Che abbiamo Selezionato Noi È Quell'altra No Ok Quindi Non è Questa Qui Le Seleziona E Deseleziona Anche Questo È Questa Qui Che è S X F S X F Questa E Questa Dai con L'investigazione Aspetta Dobbiamo Vedere Ce n'erano Anche Altre Però C'era Anche Un altro Gruppo Di Indizi Possiamo Spipolare Adesso Indizi Di Nathan Direttamente Ok Dobbiamo capire Come sbloccare Il cellulare Allora Vediamo Da qui Telefono 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 Cellulare Media Non penso sia la media Non lo so Magari la data di nascita Vediamo Questo Non credo Non penso Ah Vuole provare Il Pin Ah Giustamente È vero Anche qui Ci sono Un vero Vabbè Qua dobbiamo Andare a caso Presumi Ah no Quattro Ce ne fa Scele Quindi Tutti Questo Abbiamo letto Siamo Spiacenti Di informare Che Nathan Prescott Ha disturbato Varie lezioni Nel corso Dell'ultimo Mese Nonostante Ripetuti Avvertimenti La nostra Indulgenza In seguito A una brutta Crisi Di nervi Durante La lezione Di Introduzione La lettera Professore Marte Venti Nathan È stato Rimosto Dal dormitorio Per essere La giornata Senza Riportare Alcaturo Nel suo Vascio Nathan Ha un enorme Potenziale Ma anche Un comportamento Imprevedibile Che potrebbe Richiedere Una supervisione Che la Blackwell Non può Garantire La scuola Non può Tolerare Questi Disturbi Pertanto Mi auguro Che discuterete La questione Con Nathan Per fargli Capire La gravità Della situazione Si prega Di fare Riferimento All'allegato Per Ok Allora Questo 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 E questo Ok Max E qua c'è da lavorare un po' Rindago Aspetta Fammi vedere Allora Non lo so Se è fatto male pure ai dita O probabilmente Non lo so Non ho studiato tantissimo Quanti cazzo di messaggi Ci abbiamo accumulati Scusate Aspettate Mamma Fintato che c'è Rossini Torno nei miei libri Ci sentiamo presto Baci Max Justin Grazie Justin Per cosa Ricordo neanche Ehi Ok Quasi finita Vi chiamo più tardi Voglio bene Cortene Oh grazie Cortene sono stra bene Di compiti Ora ti faccio sapere Grazie ancora Fammi sapere Quando vuoi passare da me Ricevere i miei capi Ah ok Perché dovevo andare alla festa Vabbè Così Va bene Allora Momento Qui ne dobbiamo selezionare Non si sa Quindi andiamo solo a vedere Eh Che cazzo vedo Non ho capito Ah lo devo inserire io Ah ok Scusate Vado di foglio 9535 Quella cerchiata 95 35 Ok 0058 Le proviamo tutte Che ne so 0058 Quelle da 4 Proviamo Che ne so 99 88 88 Ok L'ho bloccato Quindi ci serve questo Adesso Non lo so Proviamo Meno che non era questo Proprio Però mi sembra Uno 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 L'avrà cambiato No Ok Eh aspetta 87 89 7808 87 89 7808 87 89 87 89 0 8 78 Che cazzo Ne so Eh vacca puttana Ma non mi ricordo La memoria è quella che è Aspettate Ma i numeri Non me li ricordo 87 89 7808 87 89 7808 Facevo prima a scrivermi 87 89 8808 7808 7808 08 La ti riportala arrivo non venire sbirri alla spiaggia ok questo presumibilmente tra Frank e Nathan sei a casa? stasera si fa festa a casa sto arrivando prepara la pipa ehi mi serve roba subito non faccio consegne a domicilio a una macchina non ho tempo ti pago il doppio farei bene ad avere i soldi con te non prendermi per il culo indirizzo ti chiamo così ti spiego tutto arrivo prepara i soldi se sveglio fra te puoi dirlo forte che ti serve zucchero peruviano acido schidu paghi la tariffa notturna non farmi aspettare scusa per essere stato un coglione ho bisogno di altra roba sei a casa? si non venire vaffanculo ehi mi serve erba eccetera ora calmati sei in botta tra poco aiutami frate ti prego spiaggia non fare il coglione stavolta tieni quella boccaccia impertinente chiusa sarà peggio per te so dove dormi per favore non contattarmi al lavoro te l'ho già detto ed essere strafatto non è più una scusa questi sono affari non un hobby vuoi che ti tratti come un adulto che sa fare le cose da sé allora stupiscimi voglio essere fiero di te ma non lo sono ancora si vabbè sappiamo un po' di situazioni tossiche so che possiamo sto a fare tutto io vabbè indaghiamo ok dopo la festa quindi questo inizia alle 8 il 4 quindi vabbè ci dice solo quella data quindi presumibilmente dobbiamo vedere solo quelle con il 4 e il 10 7 10 7 10 4 10 4 aspetta com'era stasera si fa festa a casa sto arrivando preparate questo però non faccio consegna a domicilio questo è quello questo è quello durante la festa il 4 questo evidentemente della mattina questo è del giorno dopo no il 9 quindi ok non ci interessa quindi possiamo selezionare questi due e già ci siamo inculati però perché o ne devo selezionare solo uno durante la festa non quello della mattina vediamo questi altri fogli sappiamo che è il 4 il 9 non ci interessa il 10 4 5 40 900 dollari sti cazzi 10 10 10 10 10 4 11 PM eh quindi questo è quello della sera quest'altro era della mattina non so se devo beccare anche quelli cioè di tutta la giornata ma non ho secondo me sono quelli dopo la festa quindi facciamo una cosa era questo giusto alle 11 PM questo guardate dice 24 questo è della sera quindi selezioniamo questo e vediamo qui se c'è qualcosa in quella data questo è il 10 questo no questo no 10 non ci interessa neanche questo idem per questo 10 4 10 56 PM ci siamo eh pure qua eh 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 mo so cazzi per le date perchè pure questa è del 4 5 6 PM no 7 25 PM ok ok niente allora è questa qui del capanno presumibilmente alle 11 11 di sera 10 4 11 di sera quella che abbiamo selezionato qui del messaggio che ora erano 10 e mezza quindi è dopo aver preso questo quantitativo di droga che dite ci siamo andiamo eh eh scusa quello era un figlio sarà dei prescott no ah si eh e due pistole tra l'altro ok va bene allora presumibilmente salverà quindi a questo punto ragazzi direi che ci possiamo anche salutare qui con questo episodio di life is strange voi come sempre fatemi sapere la vostra abbiamo fatto un episodio sostanzialmente di indizi ma ci può stare è stato abbastanza interessante andare a spippolare tra tutte queste cose da collegare comunque ci vediamo con il prossimo appuntamento con life is strange adesso sono curioso del fienile e niente seguitemi anche sul secondo canale sulla pagina facebook e un saluto a tutti da quel taleale